Si chiama Scrittori Senza Filtri, la rassegna organizzata da Noela Celli nella location del Caffè del Borgo di Monteprandone. Si tratta di una serie di particolari incontri con gli autori che vanno oltre la classica e canonica presentazione delle opere. La volontà di innovazione culturale del titolare del locale Andrea Piunti ha trovato terreno fertile nella scrittrice Noela Celli che ha così inventato un nuovo format. Scrittori Senza Filtri è una rassegna piuttosto particolare, non propone le solite presentazioni di libri, sottotitolo Tutta la verità, nient'altro che la verità. Da anni scrivo, quindi partecipo in quanto autrice e in quanto ad ospite a delle presentazioni di libri e un pochino questa cosa mi ha fatto riflettere su come innovare un po' la formula perché a volte è sempre sempre uguale. Quando Andrea Piunti del Caffè del Borgo 1974 mi ha proposto di fare una piccola rassegna culturale, letteraria, ho subito pensato forse questa è l'occasione giusta per innovare un po' le formule. Infatti ho ideato questa rassegna a scrittori Senza Filtri, chiamando autori di grande livello che si prestano, però si devono prestare a parlare di se stessi Senza Filtri. Fondamentalmente siamo ciò che scriviamo, cioè gli scrittori mettono moltissimo di se stessi nei libri, non a livello biografico, però a livello inconscio, a livello proiettivo, in realtà scrivono di se stessi. Quindi nella prima metà di ogni evento l'autore parlerà dei propri libri e di cosa vuole esprimere tramite i propri libri e soprattutto di come la scrittura lo abbia aiutato nei momenti più bui della propria vita, di come, insomma, conviva con il suo lato creativo, che non è sempre poi così tanto semplice, invece a volte è salvifico. Nella seconda metà, per chi fosse interessato, c'è sempre un momento in cui si entra nella stanza dei bottoni, cioè si va a chiedere all'autore, autori che hanno un bellissimo curriculum, quattro consigli per chi ancora deve scrivere un libro, quindi su come scriverlo e quattro consigli invece su come pubblicarlo, perché il mondo editoriale è un mondo assai difficile, tutto il mondo artistico è difficile da approcciare, però tanto più quello editoriale perché purtroppo in Italia si legge molto poco, quindi c'è un'offerta enorme, tantissimi scrittori, pochi lettori, bisogna lottare. La rassegna ha avuto anche questa piccola idea di proporre delle foto sia di scrittori famosi che degli autori che poi vengono e vengono affisse nel locale, a ricordo di questa rassegna, c'è il rituale dell'autore che a fine intervento poi firma la foto che verrà appesa, ma prima che finisca l'evento ci sarà la domanda cattivissima, questo è un rituale, dovrà rispondere tutta la verità, nient'altro che la verità. Ha una domanda piuttosto cattiva che viene sempre tenuta segreta e poi insomma naturalmente il gioco è bisogna essere sinceri, sincerissimi. Per il terzo incontro ci sarà Giorgio Bastonini, scrittore per Giallo Mondadori, ha creato un personaggio, Paolo Santarelli, uno strano pubblico ministero molto divertente e molto ironico ed è un grandissimo piacere averlo qui a Monteprandone direttamente da Latina dove lui abita, quindi lo ringraziamo per essere venuto fino a qui a parlare di se stesso, della scrittura e delle sue storie. I prossimi incontri saranno il 2 di aprile con Alessia Bronico che ha appena vinto un premio importante, il premio letteratura città di Como e è uscita con il suo bellissimo romanzo Splendora, ma l'è anche poetessa, quindi questa doppia veste di poetessa narratrice. Il 30 aprile avremo Alessandro Morbidelli, scrittore di Gialli per Toda Redizioni, che è di una bravura e soprattutto una persona che dà anni organizzamenti culturali, che segue il mondo dei blog letterari e quindi avrà tanto tanto da dirci. Ospite della serata di domenica è stato Giorgio Bastonini che ha parlato della sua ultima fatica letteraria, l'incertezza della rana, ma anche e soprattutto del suo mestiere di scrittore. Noella Celli è stata l'ideatrice di questo evento letterario e mi ha permesso di presenziare appunto qui a Monteparandone per presentare il mio libro, per parlare soprattutto di scrittura, scrittura, lettura, perché probabilmente l'idea dello scrittore è quella di un personaggio un po' strano, no? Vabbè sì certo, normali non siamo, però strano quanto, quanto siamo come dire prevedibili, quanto siamo comprensibili, quindi tenterà Noella di estrarre dalla nostra corazza qualcosa di particolare, qualche curiosità, qualche piccolo segreto e magari anche per aiutare chi ha un'intenzione o mezza intenzione di scrivere, appunto, ad aiutarlo a raggiungere questo sogno. Nel corso dell'incontro non sono mancati i consigli a chi vuole avventurarsi nell'arte dello scrivere. Un consiglio che posso dare a chi intenzione di scrivere è di essere umile, perché purtroppo noi tutti pensiamo quando ci capita qualcosa di particolarmente bello, di particolarmente forte, che può essere un argomento che interessa a tutti. Probabilmente è vero, ma dipende come si scrive questa storia. Quindi il mio consiglio è quello di far leggere le bozze, ciò che avete magari già intenzione di scrivere o comunque che avete buttato giù in bozza, non soltanto ad amici e parenti, che purtroppo biologicamente tendono un po' magari a non dire sempre la verità, ma anche a qualcuno che non vi conosce e fate tesoro di loro consigli.